Buona domenica a tutti, vittoria doveva essere, vittoria è stata, un grandissimo Bertini vince il primo incontro contro la nazionale olandese, vince in due set, dopo di che arriva a Sinner con Griesport, soffre tantissimo nel primo set, chiude 7-6 vincendo, dopo aver annullato due palle break nel terzo game, vince 7-6, dominando praticamente il tie break, dopo di che vince il secondo set 6-2, dove la battuta l'ha fatta la padrone, uno Yannick Sinner dallo strapotere, dal tie break in poi, non c'è stata più gara, ha lavorato molto sul fondocampo, ha fatto degli spettacolari colpi con delle palle corte, una bellissima incrociare, l'altra con il tocco del net che è andata a fare punto, la prima battuta ha funzionato benissimo e questo ha aiutato, che dire, la gioia immensa di avere vinto la seconda Coppa Davis consecutiva, eri il più forte, hai dimostrato di essere il più forte, hai dimostrato di esserlo in tutti i sensi, hai dimostrato che un berrettino in gran forma, in gran spolvero, quando mette la maglia della nazionale italiana per la Coppa Davis la sente, hai dimostrato che Sinner, anche in un set perfetto, come quello di Kriespor nel primo, riesce a vincere lo stesso, giocando un grande tie break, domina nel secondo set, vince 6-2, fa due break, dopo aver subito il contro break, Kriespor che addirittura aveva i crampi alla mano, dà delle botte, Sinner era a incrociare, con un dritto incrociare, si è sentito addirittura una botta della forza con cui tira, onestamente, che dire, era la nazionale più forte, dovevamo essere la nazionale da battere, non ci ha battuto nessuno, abbiamo vinto la seconda Coppa Davis, è una gioia immensa, soprattutto una gioia immensa, vedere Berrettini tornare ai suoi livelli e vedere un Sinner che onestamente ha dominato il palcoscenico di quest'anno, siamo riusciti a riuscire campioni del mondo, sia con la nazionale femminile che con la nazionale maschile, Malaga oramai è diventata la nostra terra, 5.000 italiani c'erano a tifare oggi la nazionale e Sinner, Volandri porta a casa l'ennesima, nella seconda Coppa Davis consecutiva, l'ennesima vittoria consecutiva, il doppio italiano, Bolelli-Vavassori, non ha giocato in semifinale e non ha giocato in finale perché sono state vinte entrambe per 2-0, tutto questo è il contorno della splendida nazionale, dell'incredibile nazionale italiana che ha vinto per la seconda volta la Coppa Davis, che ha dato questa grande gioia, questa grandissima soddisfazione a tutti noi italiani, dimostrando di essere veramente più forti. bravo Italia, bravo Berrettini, bravo Sinner, bravo Musetti che ha accettato la panchina, bravi Bolelli-Vavassori, bravo Volandi, bravi tutti quelli che sono stati in questo contorno che hanno permesso di avere il secondo successo consecutivo. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!